E' qui Marzia Carabelli. C'è poco da dire, correre, correre fuori. Sì, Alper. Sistemare le mani, non ha coppa come fanno tutte le altre, lei ha la mano, le mani, non solo lei. Billot. Soundy Billot. Soundy Billot meno dominante rispetto alla mattinata, indietro Marzia Carabelli che adesso prova a entrare. Soundy Billot va a vincere, Carabelli sesta, niente da fare. La Carabelli ha preso di sistemare le mani, non ha coppa come fanno tutte le altre, lei ha la mano, le mani, non solo lei. Billot. Soundy Billot. Soundy Billot meno dominante rispetto alla mattinata, indietro Marzia Carabelli che adesso prova a entrare. Soundy Billot va a vincere, Carabelli sesta, niente da fare. La Carabelli ha preso di sistemare le mani, non ha coppa come fanno tutte le altre, lei ha la mano, le mani, non solo lei. Billot. Soundy Billot. Soundy Billot meno dominante rispetto alla mattinata, indietro Marzia Carabelli che adesso prova a entrare. Soundy Billot va a vincere, Carabelli sesta, niente da fare. La Carabelli ha preso di sistemare le mani. Hilde Brandt per ora è fuori con 12.92, è come Elin Berings. Eccola, ha freccato subito, con la seconda gamba, nel richiamo con il piede ha urtato la barriera. Quindi lì è finita la gara, il primo ostacolo. Marzia, sì, parlavamo di quell'ostacolo preso che ha un po' condizionato tutto. Sì, proprio il secondo e il terzo, credo. Quindi in fase di accelerazione, proprio, perso completamente l'assetto. Il primo, secondo me il secondo. Magari lo riusciamo a rivedere poi con Carabelli. Cambia poco, insomma. Risultato che purtroppo non è quello che voleva. Esatto, assolutamente no. E tutto sommato sono riuscita a riprendere la corsa alla fine, però ormai ero dietro. E quello è il risultato. Anche il replay, però non ho visto l'inizio. No, sì, sei stata sicuramente brava a riprendere. E cosa, ecco, quando succede tutto ciò, quando si arriva qui poi c'è più rabbia, più delusione, cosa. Sicuramente c'è tanto ramarico, non è il risultato che speravo di raggiungere. Riguardiamo dalla partenza. È il primo, è il primo, con la seconda gamba. Ah, sì, eccolo qua. È proprio il primo. Sì. Ma dicevamo? Sì, che non è il risultato a cui puntavo, soprattutto dopo le batterie di stamattina. Volevo un posto in finale, sia per confermare il risultato di due anni fa, sia perché con il 98 di stamattina pensavo di meritarlo, di poterlo anche agguantare. Vediamo un altro punto di vista. E mi sbanda dopo quel sbandamento. Esatto, completamente sbandata. Poi, ripeto, poi non corso male dopo, però ormai avevo perso tutta la fase di accelerazione. Quindi, niente, non c'è da aggiungere molto. Ho fatto una brutta gara, un brutto errore. Sono molto dispiaciuta. Perché non è per te. Mi dispiace. Grazie. Grazie. Grazie.